Domenica 27 novembre appuntamento alle 9 e mezza al faro della riviera Lanterna a Scoglitti per iniziare a ripulire la spiaggia e riportarla al decoro. Ad organizzare l'iniziativa il gruppo Fare Verde Vittoria insieme all'associazione Spazio Lisi e Circolo Velico di Scoglitti, che denunciano come tutto il litorale di Cammarana, Costa Fenicia, sia cosparso da una coltre di plastica. Un allarme che coinvolge il mare a livello globale, scrivono in una nota i rappresentanti di Fare Verde, pieno di plastica che vaga indisturbatamente nelle acque, determinando danni irrimediabili a tutto l'ecosistema marino. Con i moti ondosi, la plastica spesso viene poi espulsa dalle acque marine e si ritrova spiaggiata, una situazione a cui, sottolineano gli ambientalisti, non fa eccezione il nostro litorale, ad oggi soffocato dalla plastica. Una cartolina indecorosa, aggiungono da Fare Verde, che ormai da anni contraddistingue un territorio ad apparente vocazione turistica. È necessario trovare una soluzione nel lungo periodo con le istituzioni, ma è altrettanto fondamentale intervenire al più presto. Durante l'inverno, infatti, i venti con il trasporto delle sabbie copriranno questa enorme quantità di plastica e non sarà più recuperabile, sfalsandosi in micro pezzetti, creando un inquinamento diffuso e permanente. Un comitato spontaneo di residenti e noni, insieme alle associazioni, comuni, lanciano perciò un appello affinché in tanti che partecipano alla giornata di pulizia del litorale, organizzata per domenica. L'invito è rivolto a tutti i cittadini, nonché ai portatori di interesse, come tutti i titolari di chioschi, lidi e di attività ricettive e commerciali, per partecipare in massa alla pulizia del litorale e restituire dignità a un bene comune, tutelando il territorio.